Ciao ragazzi sono Crax, bentornati nel canale, siamo tornati finalmente su Clash of Clans Ed eccoci qua, dopo una settimana torniamo nel mio villaggio principale Questo oggi super episodio farming Vi avevo già preannunciato nel video di domenica, se non erro credo proprio di sì La presenza di questo super evento Un evento che comprende ben tre eventi Con tre diverse unità da utilizzare Ad esempio, ve le dico subito Otto bocciatori, due mastini lavici e dieci mongolfieri Ci sarà ragazzi veramente da divertirsi Usciranno fuori penso degli attacchi straepici E sicuramente molto molto difficili Probabilmente ci saranno dei fail Un'altra cosa ragazzoli che ci tengo a dirvi è che il video di domenica non è andato nei consigliati Non sono partite le feed Se ve lo siete perso lo trovate sia in descrizione che nelle schede Mi raccomando passateci perché è stato troppo epico sul secondo villaggio Dicevamo tre progressi differenti per un totale di nove progressi totali Quello che faremo quest'oggi è cercare di fare solamente tre battaglie Metto le mani avanti ma sarà molto difficile E completarli tutti insieme contemporaneamente Siamo di fronte all'evento più particolare di tutti Non è l'evento che dà più gemme perché ce ne sono stati un paio da 100 Quelli con 10 progressi Ma ci accontentiamo di 60 gemme Ci stiamo per avvicinare alle 9800 Ne mancano solamente 200 ce la faremo al nostro obiettivo 10.000 gemme credo ragazzi che possiamo già partire non prima di aver lasciato un pollicione in su Se riusciamo ad arrivare a 7.000 like entro stasera molto probabilmente domenica torneremo con un bel episodio war Me lo chiedete sempre e ce la farò Organizzerò tutto al meglio grazie a tutti per il supporto Sono sicuro al 100% che il sondaggio precedente è stato vinto sicuramente da una torre degli arcieri 20 goblin e qualche gigante Non so cosa mai potrà uscire fuori speriamo qualcosa di positivo Il secondo esercito invece 4 draghetti e uno sgherro sempre le classiche truppe Per i progressi partiamo dobbiamo fare bonus stella Voglio distruggere un bel inattivo da 400.000 Boni tutti tate boni perché ragazzi abbiamo trovato un 446.000 però non è affatto facile Io ci provo lo stesso vediamo cosa riusciamo a fare Devo puntare principalmente all'oro e ne vedo abbastanza nella parte in alto Però partiamo dal basso tanto abbiamo gli eroi sicuramente riusciremo a fare questo inattivo Devastante siamo partiti con i mastini vado con le mongolfiere Distruggiamo tutte le difese esterne i mastini sono al centro e probabilmente sono scoppiati Quindi non sono serviti assolutamente a niente solamente per traghettare le mongolfiere Vai mongolfiere distruggete quella torre degli arcieri e molto molto bene anche una furietta ci butto I bocciatori sulla zona di sinistra dai ci siamo stanno andando praticamente tutti giù i giganti li mando dopo Le strategie occulte stranissime di grax andiamo nella parte in alto e ci mandiamo magari qui la regina Molto molto bene praticamente dimezzato tutto l'oro rimangono solamente sì quelle miniere in alto Abbiamo altre mongolfiere e dato che ho le truppe contate devo utilizzarle tutte Altrimenti il progresso non viene effettuato un bel re barbaro da sopra Come stiamo andando fermi c'è una miniera a sinistra Occhio se no ce la dimentichiamo l'abbiamo presa con quei maghetti sì top Il king ragazzi sta subendo forse un po' troppi danni Siamo al 41% attiviamo l'abilità no aspettiamo un altro po' Dai regina distruggi tutta la parte a sinistra rimangono esattamente 18.000 che non vorrei lasciarli Mi dispiace questa cosa infatti ci butto una bella curetta Tanto l'elissiere lo possiamo buttare sprecare non ci importa Viking spadate su spadate esce dal raggio quindi ottima la cura Fantastica la queen stava andando giù wait stai mazzo grax fai attenzione anche il king sta subendo Per il momento no andiamo con l'abilità proprio ora 73% sarebbe bello fare le due stelle Il problema è che la regina ci saluta in questo momento e probabilmente in questo attacco perdiamo sia la regina che il re barbaro Molto male vai king almeno prendici tutto l'oro ed elissiere rimasto vado con il goblin e non riusciremo mai ad entrare al centro Mi dispiace tantissimo 86% potrei pure scamparmela perché lì ci sono troppe tesla ragazzi tanto il king non entrerà mai C'è un cannone in agguado ci prendiamo l'elissiere nero che serve sì l'elissiere nero proprio è stato fondamentale Ragazzi io me ne vado con l'87% perché è esattamente un bonus al 100% 443.000 di oro Tutto questo elissiere nero sprecato che viene costantemente sprecato nei miei video è veramente incommentabile Dovrebbero aggiungere secondo me qualche livello alle truppe con elissiere purtroppo non lo fanno spero che lo facciano presto Andiamo ad impostare no fermi prima il progresso lo vediamo insieme ta 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 in fila 1 1 1 Prima di partire voglio solamente dirvi che in questa stanza in questo momento con le luci eccetera fanno esattamente 50 gradi Sto per squagliarmi in live quindi sono tornati i nostri cari amici pisellini e pendus ragazzoli non posso più farne a meno Altrimenti il telefono mi scoppia infatti sto velocizzando il tutto già sto cercando in attivo spero di trovarne un altro carico Oh my god ragazzi live 450.000 Occhio perché qui ragazzi sono problemi non abbiamo neanche gli eroi per fortuna il castello dobbiamo fare assolutamente il 50% Allora vedo queste due difeserie belle tattiche da questa parte quindi andrei con i mastini di corsa Subito con le mongolfiere magari cerchiamo di utilizzare pure le pozioni in modo tale da distruggere tutta quella zona Velocemente dai un'altra furia pure di qua perfetto ci sfondiamo tutta quella parte e con Magari due bocciatori così ci prendiamo le miniere guardate là ragazzi che disastro forse anche la torre infernale Probabilmente sì giù la torre infernale però c'è la torre le arciere in altro che mi distrugge tutte le mongolfiere insieme alla tesla Male 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 abbiamo i draghetti quindi di qua ci andiamo pesantemente con i draghi due mongolfiere tatticissime Che cosa ho nel castello fatemi cliccare vediamo un attimo siamo al 34% c'è un sacco di visir da prendere I draghetti vanno giù da quella parte maledettissimi non mi morite please Andiamoci a prendere queste miniere in alto sempre con i draghi e i bocciatori Sicuramente il 50% è fatto sicuramente tutto l'oro lo prendiamo Peccato perché sarebbe stato bello fare il 100% magari con gli eroi Ma lo sapete grax non ci riesce quasi mai solamente nel precedente episodio ci sono riuscito sono riuscito a fare ben 300% Con sempre gli eroi attivi praticamente assurdo 55% l'abbiamo praticamente chiuso il castello lo posso anche risparmiare potrei buttare questo sgherretto dove lo posso mettere Non lo so considerando che non sono sgherri mutanti non colpiscono da lontano con i primi colpi Probabilmente lo metto qua sopra ci prendiamo la caserma tanto così potevo anche risparmiarlo Dai che facciamo qualche percentuale in più su sgherretto spaccatuto ce la devi assolutamente fare vediamo quanta percentuale ci porta a casa Olè caserma giù scudo attivato per 14 ore 60% e ci prende pure una capannetta del muratore Bruciacchiato dalla tesla ce ne andiamo 61% ce ne andiamo ragazzi con un 441.000 più 50.000 di bonus Quasi un 500.000 mi accontento e via ragazzi sono curioso di vedere il progresso Ta 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 2 2 2 fantastico La cassetta di gem la prendiamo a fine video e in questo momento voglio prendere il carretto di risorse Però ragazzi non posso perché ho troppo lisir nero quindi utilizziamo la tecnica Grax Impostiamo le pozioni del veleno e prendiamo il carrettino ciavone È tornato il king! Sì per l'ultimo attacco ce l'abbiamo Comunque tra di voi c'è ancora qualcuno che scrive Grax Forte Re Barbaro a livello 45 Ragazzi se io ci clicco non si può serve il municipio all'11 purtroppo Se no li farei senz'altro un sacco di lisir da buttare Siamo tornati manca veramente pochissimo esattamente 3 secondi al completamento dell'esercito Ok completo ho preparato un esercito molto molto umile Dobbiamo solamente cercare di fare una stella e razziare più risorse possibili Anche se abbiamo già l'oro disponibile per fare la torre degli arcieri a in basso Ma non ci importa noi dobbiamo comunque farmare le risorse sono il nostro scopo il nostro obiettivo Vi faccio vedere un'altra volta l'evento così tatticissimo 2 su 3 i progressi generali andiamo ragazzi a cercare un altro inattivo Ho bisogno di tantissime risorse di tantissimo oro Perché stavo notando nel villaggio deve ancora fare l'arco X a livello 3 Il terzo arco X devo portarlo a livello degli altri Probabilmente ve lo porterò nel prossimo episodio Ragazzoli questo me l'hanno fatto sudare e non poco Ho sprecato un sacco di oro negli skip Però guardate che libidine 490.000 Veramente bellissimo Poi tutto questo oro concentrato qui mi brillano gli occhi Andiamo ad attaccarlo subito però come attacco Momento di riflessione per Grax Abbiamo i giganti Direi di attaccare principalmente da questa parte con i giganti Qualche arciere se riesco a metterli si vado con gli arcieri poi vado con i barbari E anche con i goblin dato che è praticamente tutto esterno E ci manderei pure il king Qua sotto invece ci andiamo con i due mastini top Vado con le mongolfiere tutte belle veloci E le velocizziamo con una bella furia Perché c'è anche la regina che può dar fastidio Dai buttate giù le bombe la regina non va giù E quello è il problema L'oro è stato praticamente preso tutto Vado anche con un'altra bella furia Vado anche con un'altra bella cura Questi attacchi ragazzi sono tutto Tranne che farming cioè sono attacchi casuali Una strategia veramente da dimenticare Però è vero è carinissimo È proprio bello attaccare in questo modo C'è una suspense pazzesca Da sotto ci sono un sacco di truppe Il king sta subendo troppi danni Davvero troppi Dai non mi morire king Voglio aspettare un secondo a mettere l'abilità Vado con una furia qui Ho attivato l'abilità Spero di distruggere tutto Le tre stelle sono alquanto improbabili Anche se sarebbero utili per il bonus Mancano esattamente proprio tre stelle Ultimi goblin da questa parte Rimangono anche quattro barbari Il mio king però sta a metà vita E sta fermo lì sul municipio Ci sono un sacco di bocciatori Troppe difese all'attivo ragazzi Davvero troppe difese all'attivo Non lo so Metto una velocità così a caso King velocizzati ti prego 85% No c'è una tesla dall'altra parte del muro Peccato davvero peccato Occhio perché no ragazzi Ho lasciato 26.000 No queste cose no No queste cose no Erano sicuramente all'interno dell'ultimo deposito Comunque un bellissimo attacco Guardate qua ragazzoli 465.000 Che sommata al 55.000 del bonus Superiamo addirittura le 500.000 È il momento di vedere insieme la notifica Mi sposto a sinistra Torniamo sul villaggio Ecco qua le notifiche ragazzuoli Evento completato Pensavo scrivesse eventi completati Andiamo a vedere ragazzuoli Tutti i progressi Tutti quanti fatti Il nostro obiettivo era quello di riuscirci facendo solamente tre attacchi Ce l'abbiamo fatta alla grande Anche se gli attacchi sono stati un po' bruttini da vedere Non abbiamo tristellato nemmeno una base La regina è tornata Certo a fine video Brava regina grazie Se ci fossi stata nell'ultimo attacco sicuramente sarebbe stato un tristellamento Prendiamo la cassetta di gemme e direi di andare a fare subito Immediatamente la torre degli arcieri ha in basso con 7 milioni di monede Ciao Prima a poi riusciremo a perfezionare pure una torre degli arcieri Ce la faremo ma servirà il BH6 del prossimo aggiornamento Ci vorrà una vita ma non molliamo Ragazzuoli like e commento Il prossimo sondaggio me lo stavo per dimenticare Ovviamente turno di riposo per la torre degli arcieri Facciamo così ragazzi Cannone contro arco X Ci butto dentro l'arco X Facciamo un sondaggio un po' particolare